Nella zona di Ischia si trova anche un commercialista retino, Fabio Battaglia, che è collegato con noi. Immagino insomma siano state ore anche di apprezzione. Lei era lì in vacanza con la famiglia? Sì, sì, io ho la casa qui a Ischia perché mio padre era ischitano, quindi ci vengo tutti gli anni. Rispetto alla rappresentazione che è data un po' dalle televisioni, purtroppo ci sono state anche delle situazioni complicate, però la gran parte dell'isola non è stata minimamente danneggiata, quindi è soltanto una particolare zona che ha subito, praticamente il terremoto ha scaricato solo in quella zona, per cui nella zona dove mi trovavo io dall'altra parte dell'isola rispetto a dove sono accaduti i fatti, il terremoto si è sentito molto meno. Certamente siccome c'è stato un provviso blackout e poi la scossa non è stato piacevole perché ci siamo trovati al buio con questa scossa, io poi sono con due bimbi, quindi sicuramente è stato un brutto momento, però nella mia zona è durato molto poco e le ripeto, la gran parte dell'isola è totalmente integra. Ecco, è solo quella zona purtroppo dove si è scaricato più fortemente, non sono un geologo, non so per qual motivo, si è scaricato più fortemente del terremoto e lì probabilmente c'è anche un problema, le case per regola d'arte non erano, però vi ripeto, io ho deciso di andare via per una tranquillità, sono con due bambini, però al momento la situazione è abbastanza tranquilla, non ci sono state altre scosse, per cui diciamo se forse non fossi stato con i figli sarei rimasto qui, ecco.